Ciao a tutti, oggi prepareremo la salsa al salmone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa. Gli ingredienti sono salmone affumicato, olio evo, burro, vodka, panna da cucina, prezzemolo tritato, pepe nero e sale. Andiamo in via la ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il salmone, il burro e l'olio. Ed azionare il bimbi per 4 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungere il bimbi per 3 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft senza misurino. Aggiungere la panna. Il sale e il pepe. Ed azionare il bimbi per 4 minuti. 90 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungere il prezzemolo ed amalgamare con la spadola. La salsa è pronta per essere utilizzata. Salsa al salmone. Ideale per condire la pasta. Grazie e alla prossima ricetta.